Ho preso il cerchio Boh penso di si ma non da disturbarci insomma Eh sono cascato Eh siamo un po' ancora, vabbè se vuoi fare un po' di pezzinato da qua Vai vai Ti sparo le spalle O qua Ma magari sono qua sotto eh Eh non vedo nessuno neanche qua È troppo comunque dobbiamo andare Però saltando qua sopra secondo me ci si apre il paracadute Dice qui lo vuoi provare eh? No ma questo qui secondo me se ci saltiamo sopra da qui ci apre il paracadute guarda E poi andiamo verso Guarda 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 Questa la fattur c'è Eh vabbè ma lì saremmo morti a prescindere possiamo salire sulla torre quanti siamo? in 7 oi stupi ci converrebbe fare il nostro pavoroso fortino dal tetto tipo magari andiamo dentro e facciamolo facciamo dalla cima di quel... no è fuori anche quello il centro è tipo quelle torri lì no nemmeno quelle dalla cima di questo edificio questo è abbastanza centrale oh scusate cosa? ma c'è l'unitimento eccessi no? no trebbe essere un'idea ciao io sono nel bagno davvero davvero vediamo quando si chiude il cerchio come diventa cazzo vai che la vinciamo questa boss si siamo dentro io no no ah sì l'ho vista adesso li stanno sparando eh ma ci sarà un'altra coppia contro quello lì e poi ci siamo noi la coppia è in alto cazzo da dove morto siamo rimasti noi due noi due contro quei due e adesso vanno a saccheggiarli poi potremmo attaccarli quando vanno a saccheggiare le sue cose no sempre si dovremmo fare una scelta anche loro io 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 ho il l'esc no vabbè sì appena usciamo sì sì appena usciamo sparo tutte le esche che ho e poi vabbè l'impazzata c'è quello che dobbiamo fare che l'impazzata l'impazzata qui l'impazzata ci sono dove sono sono probabilmente in quella direzione sono in quella direzione sono in quella direzione eccoli eccoli arrivano sono qui sono qui sono qui sono qui sono qua sono qua adesso esco Quando ci passano davanti usciamo Ora 3, 2, 1 Dai Dobbiamo prenderli boss Da tutt'altra parte Siamo rimasti in 2 metri quadrati Eh no siamo fuori dal cerchio Saranno fatti il fortino Sicuro Sì 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 Vabbè Dobbiamo uscire comunque Andiamo boss Sì 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 Grazie.